Lo ripeto ancora, senza fare considerazioni che potrebbero essere associate all'aspetto i zootecnici, io dico, ci sono i cani da salotto, i cani da passeggio e i cani da combattimento, bisogna come gli addestri, allora io sono addestrato al combattimento, infatti io dico sempre che sono un combattente ma un reduce, il lavoro mio l'ho fatto, poi sul campo non vado io, perché se ci andassi io sul campo sicuramente produrrei altri risultati, ma questo lo dico non perché, ma no, è un problema di DNA, di carattere, io ripeto sempre anche questa frase, la vita è un sette di un film, c'è chi fa lo spettatore, chi ha comparsi è il protagonista, i protagonisti sono pochi, ma il protagonista ce lo deve venire il DNA, lo sai che poi vi racconto una cosa, un Presidente vi racconto questo, appena sono entrato, il primo giorno sono entrato, a un certo punto io entro e mi dicono chi doveva fare il Presidente, questa è storia dentro, allora io ero appena entrato in Lega la prima volta e dici Gagliani, allora lui mi dice ma guarda come è Gagliani, ma noi vogliamo andare via, e perché Presidente? Perché rappresenta la professionalità, l'esperienza e il rapporto col palazzo per cambiare il sistema, un Presidente, non faccio il nome, disse, allora dici ma tu che, ho detto in modo più colorito, sei appena arrivato che cavolo di esperienza c'hai? Ricorditi caro che l'esperienza fare il rapporto ai tempi e alla persona, e quello mi dice ma che vuol dire? Che tu per capire una cosa c'è più di 10 anni c'è più di un minuto.